Siamo qua al cremaus a presentarvi l'ultima nata della famiglia Maidatec, la Smart Plus, macchina di ventilazione meccanica che rappresenta un aggregato compatto. Integra in un'unica macchina le funzioni di ventilazione meccanica, recupero statico e pompa di calore. La pompa di calore permette di assolvere le funzioni di riscaldamento e raffrescamento e il tutto è comandato da un'interfaccia touch e da un sensore di qualità dell'aria. Il sensore di qualità dell'aria permette di monitorare i parametri di temperatura, umidità ed inquinanti, quindi COV o VOC. Il tutto è comandabile anche da remoto tramite un'interfaccia web o tramite l'app, quindi ogni utente dal proprio telefono può rendersi conto della temperatura e delle condizioni all'interno della propria casa e di regolare in base al proprio comfort atteso. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!